Ciao a tutti e benvenuti. Io immagino che tutti i tifosi milanisti che sono solleticati dalle voci, dai rumors, dalle indiscrezioni, dalle ipotesi di mercato che si fanno su Federico Chiesa, a tutti questi milanisti avranno fatto piacere la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. Ed è proprio per questo che è giusto intervenire. Proprio perché la lettura di un tema di mercato come tanti, nessuna polemica nei confronti della Gazzetta o dei giornali in generale, che naturalmente per ravvivare l'atmosfera di mercato fanno ipotesi le più disparate, anche perché quella che fa la Gazzetta questa mattina è esattamente un'ipotesi, e non il racconto, la cronaca di una trattativa. Però, proprio per evitare che la lettura di una prima pagina di fine estate, non più ai noi di mezza estate, perché l'estate ormai sta per lasciare il passo, grazie al cielo al campionato e a tutte le altre incombenze della nostra vita, sempre facendo grande attenzione all'igiene e ai comportamenti personali antivirus, proprio per evitare che la lettura di una prima pagina di domenicale diventi un'illusione. È giusto allora intervenire, non per il gusto di intervenire. E credetemi, noi facciamo chiacchierate fra di noi, quindi non facciamo nulla di ufficiale, questa non è una smentita ufficiale, ma è la preghiera accorata da parte mia di non illudervi e di non affezionarvi ad un nome e ad un cognome, quello di Federico Chiesa, che è assolutamente impossibile che arrivi al Milan. Ma davvero impossibile. Qualcuno dirà, ecco il solito Suma, che dice che le cose sono impossibili per poi preparare il terreno agli arrivi dei giocatori. Su Tonali io avevo detto che sarebbe andato all'Inter, ma perché tutti i giornali scrivevano che sarebbe andato all'Inter. Io non sapevo, ho preso per buono l'esistenza ormai di un accordo fra l'enturasi del giocatore e l'Inter che si dovesse soltanto rifinire, limare la cifra con Cellino. Io avevo letto questo per settimane e per mesi e il mio grido di dolore era sono calcisticamente innamorato di Tonali, spero fino all'ultimo che venga al Milan e mi dispiace che vada all'Inter, ma tutti scrivevano che andava all'Inter. Ricordo anche che alla fine del campionato, il primo e il due di agosto, ricordo benissimo che girava la notizia che il 3 agosto Tonali sarebbe stato a Milano per firmare questo contratto con l'Inter. proprio girava la notizia sui siti, sui giornali, era proprio dato per assolato. Quindi non facevo nulla di tattico su Tonali e non sto facendo nulla di tattico su Chiesa. Seguitemi per piacere, perché sennò poi diventa per voi un'illusione, che è la cosa che più mi dispiace, e poi magari una delusione di mercato quando sarà sancito, appurato e acclarato che il Milan non avrà preso Chiesa. Badate bene, questo è un Milan che non fa smentite tattiche, questo è un Milan che a domande di mercato risponde, questo è un Milan che se ci sono delle voci di mercato, avete visto quando è iniziato a circolare il nome di Ibrahim Diaz, nessuno ha detto nulla, Ibrahim Diaz è arrivato. Su Chiesa, credetemi, è impossibile. Non voglio smontarvi questo sogno, questa voce, perché è bene che la spegniamo subito, è bene che la spegniamo subito, per il gusto di farlo, o per il gusto di impedire ai tifosi del Milan di sognare, ma perché è così? È assolutamente impossibile, e non accadrà assolutamente che Chiesa arrivi al Milan. È meglio che ce lo diciamo, è una sensazione, è anche qualcosa più di una sensazione che ormai ho da diverse settimane, e che vi confermo totalmente oggi. Quindi, adesso dobbiamo solo ed esclusivamente pensare a qualificarci alla fase girone di Europa League e Saratura per procurarci intanto una programmazione chiara della stagione e poi eventuali altre occasioni di mercato. Però, Chiesa, davvero, non è una polemica nei confronti di nessuno, durante il mercato ci sta, ripeto, da parte dei giornali e dei giornalisti qualsiasi tipo di ipotesi, anche la più fantasiosa. Però quello che mi sta a cuore è che i tifosi del Milan non ci facciano la bocca, perché è impossibile. Credetemi, spengo questa voce, magari a mano in cuore per voi, però è molto meglio dirci una cosa cruda che una cosa invece che è destinata a non succedere. Quindi, totalmente impossibile che Chiesa possa arrivare al Milan. E, ripeto, nulla di tattico, nulla di scaramantico, nulla di nulla. È così. È così. Anche perché il Milan, i suoi esterni ce li ha, il Milan a destra, a Castieco, a Saleemakers, voi direte, tema Chiesa. Castieco è un ottimo uomo di spogliatoio ed è un giocatore mediamente sottovalutato. Non è garrincia, ma è mediamente sottovalutato. Saleemakers è in crescita e poi dietro abbiamo Conti, Calabria e Calulu, che fanno un ruolo diverso, ma che sono in grado di comunque ravvivare la proposta di gioco del Milan sulla fascia destra. Per carità, non dico che siamo, che va bene così e che è ingiusto sognare. No, no, per carità. Se ci fosse stata un milionesimo di possibilità che potesse arrivare Enrico Chiesa ne sarei stato felice anch'io. Ok? Però non c'è nemmeno un milionesimo di possibilità. E, ripeto, lo dico perché i tifosi del Milan non si illudano e poi non rimangano delusi. Adesso è una voce, una voce rinfocolata dai quotidiani, tenuta calda, proposta per avvivare una domenica e questo lo capisco perfettamente. Però spegniamola subito questa cosa. Purtroppo per vicende molto più serie, molto più drammatiche della nostra di mercato e del calcio si parla molto di focolai. Ecco, questo focolaio di illusione spegniamolo subito perché non ha non ha non ha non ha agitata, non ha consistenza, non ha nulla di nulla. Per non ripetere la stessa cosa, cioè che Chiesa è impossibile, davvero, senza tattica e senza scaramanzia, così ci capiamo. Parliamo anche un attimo di Ante Rebic. Ho letto oggi la rassegna stampa, insomma, c'è lo scandaglio in funzione. Però noi dobbiamo pensare soltanto ad una cosa, che ci siamo messi in casa un grande giocatore. Io ho seguito anche Francia-Croazia, per carità, la Francia alla fine ha battuto la Croazia. Però Rebic era della partita, Rebic era suo agio in quel contesto. Rebic ci stava bene contro quei campioni, ha tenuto testa, insomma, è fiorita una personalità in Ante Rebic che ci deve far contenti. Cioè, il Milan si è messo in casa un giocatore del quale ha totale fiducia e che ha firmato fino al 2025. Questo deve essere il nostro focus. La fiducia in Rebic è il fatto che c'è un progetto Rebic. Rebic è un giocatore importante, sapete, noi abbiamo giocato anche alcune partite senza Ibra dopo il lockdown all'inizio dell'ultima fase di campionato e Rebic ha avuto la personalità per giocarle e per essere decisivo a Lecce come contro la Roma. Rebic è un giocatore importante, per carità, si è fatto espellere in Coppa Italia contro la Juventus, ma ha capito e ha migliorato. E poi è stato splendido il modo in cui ha vinto la sfida con Cezni, la sfida verbale e tecnica con Cezni in Milan-New Ventus 4-2 lo scorso 7 luglio. Noi adesso non dobbiamo, ho visto anche sui social mille ipotesi, mille frasi, battute, noi dobbiamo essere concentrati sul fatto che Rebic è un giocatore importante e ha firmato fino al 2025. Ci siamo messi in casa un capitale di prospettiva, un capitale di valore, un capitale economico, un capitale strategico, è un giocatore importante, Ante Rebic, per cui dobbiamo essere felici di questo. Mi premeva in coda la verità che vi ho detto su Chiesa parlare di Ante Rebic. Poi nel titolo di questo video ho preso, mi perdoneranno i colleghi della Gazzetta, il direttore della Gazzetta, la foto di Chiesa sulla prima pagina e quest'oggi ho tolto il titolo perché il titolo è assolutamente impossibile. Quindi non c'è nessun sogno, nessuna ipotesi, nessuna possibilità, nessuna trattativa, niente di nulla su Chiesa. E ripeto, questo è un Milan che se c'è da rispondere qualcosa su un giocatore su cui c'è qualcosa lo fa. Le parole di Maldini Massara a giorno del raduno su Baccaioco o anche su Aurie per smentire sono state molto chiare. Questo è un Milan che se gira qualche voce che può avere un minimo di aderenza non interviene, questo è un Milan che non fa smentite tattiche, questo è un Milan che risponde alle domande di mercato su Chiesa. Ripeto, senza avere la pretesa di dirvi nulla di ufficiale, ma di dirvi delle cose vere e autentiche fra di noi su Chiesa è totalmente impossibile che possa arrivare a Milan un giocatore della Fiorentina e quindi è giusto che la Fiorentina faccia il suo progetto su Chiesa e faccia le migliori scelte possibili per il futuro di Federico Chiesa che peraltro è un giocatore importante anche per il calcio italiano e non soltanto per il calcio di club. Ma ripeto, in ottica Milan visto che c'è stata la prima pagina della Gazzetta di questa mattina, in ottica Milan qualsiasi voce su Chiesa non va spenta per dovere d'ufficio o dovere amministrativo va spenta perché non esiste ed è totalmente impossibile che possa arrivare il Milan. È una frase che credo di avervi già detto in questo video ma una volta di più non guasta e ripeto niente tattica e niente scaramazia è così. Ciao a tutti.